Gioan Battista Castagna, seduta di Consiglio Comunale, l'ultima svoltasi nei giorni scorsi con una materia prettamente contabile, ma qual è a proposito di Conti il bilancio di questa seduta? Si è trattato di approvare il rendiconto 2023, dove la maggior parte della tempistica proprio economica è stata tutta quanta governata dal commissario prefettizio, l'amministrazione è entrata in gioco solo a luglio 2023. Le cose sono andate bene, noi come gruppo di minoranza abbiamo votato contro perché ciò che aveva approntato la commissaria prefettizia è andato bene perché diciamo che è stata prudente nell'andare a postare delle misure appunto per meglio governare il bilancio di Casamicciola, che come sapete la mia amministrazione ha curato bene perché insomma dal 2014 al 2022 siamo stati capaci di poter gestire un predissesto in una condizione economica e finanziaria che sanno tutti, che era a dir poco disastrosa. È logico che abbiamo fatto presente, abbiamo dato contro, non per spirito insomma perché stiamo in minoranza, però abbiamo fatto presente che non siamo d'accordo su quelle che poi sono state diciamo le disposizioni dell'attuale amministrazione riguardo appunto a dei fondi, a postare dei fondi anche per garantire l'anno prossimo e negli anni a venire il bilancio del Comune dove secondo noi è un po' squilibrato nell'andare a postare delle spese e poi delle entrate invece incerte.